eccoci qua ciao a tutti sono filippo marchi attore di 26 anni da bologna e come tanti altri sto per aderire a questo progetto di film che è la guerra cuba con la regia di renato giuliano due parole brevemente sul mio personaggio sono io sono il basso il basso è un ragazzo il requieto complesso che cova dentro di sé un segreto che vorrebbe urlare al mondo per una questione di quieto vivere ma non può farlo non può farlo perché vive in un contesto che questo segreto non lo accetterebbe anzi rovinerebbe lo aumenterebbe come contesto intendo ovviamente la famiglia perché basso è figlio dell'assessore alla cultura di questo sperduto paese della valsamoggia una zona una provincia di queste parti e anche gli amici un contesto composto da questi amici super junior in confronto a lui che alla quale lui però si appoggia per condividere questo grande sogno che è la musica perché il basso è un bassista e detto questo niente appunto un contesto bigotto composto da luoghi comuni dalle vedute decisamente ristrette e alla quale lui ovviamente sta sta molto stretto è una condizione nella quale tutti quanti noi ci ritroviamo a vivere purtroppo molto spesso perché tutti quanti noi a volte vorremmo dire qualcosa vorremmo fare qualcosa ma non possiamo farlo allora ce lo teniamo al sicuro dentro di noi causandoci frustrazione tristezza rabbia ed è quello che succede a lui esattamente ecco e questo film appunto vuole vuole fotografare questa realtà di luoghi comuni assolutamente ristretta